Questo video riguarda i migliori tre giradischi. Il vincitore della qualità è il Teac 280. Il TN280 BTA3E non è solo un lettore di dischi dall'ottimo suono per gli appassionati di musica che desiderano ascoltare dischi in vinile dall'armadio o ristampe. Con la sua funzionalità Bluetooth, apre un modo completamente nuovo di ascoltare i dischi. Il TN280 BTA3E emette il suono in modalità wireless tramite il trasmettitore Bluetooth integrato, oltre all'uscita RCA convenzionale in formato analogico di linea o fono. Il piatto in alluminio pressofuso ad alta inerzia è azionato da un motore CC a coppia elevata che garantisce una rotazione stabile sia a 33-1 terzo che a 45 giri PERMINUTE. A differenza di altre unità con involucro in plastica, il pesante cabinet in MDF riduce al minimo le vibrazioni e la risonanza per un suono più chiaro durante la riproduzione della vostra collezione di vinili. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il 1x1 giradischi. Realizzato in legno e metallo con uno stile vintage e moderno perfettamente bilanciato, i bordi stondati creano un design raffinato e affascinante. Questo giradischi può funzionare sia a 33 RPM sia a 45 RPM. Grazie ai suoi altoparlanti, è possibile ascoltare la musica di altri dispositivi collegati tramite wireless o con la porta aux in. Sono essenziali per usare in modo preciso un giradischi classico. Permettono infatti di bilanciare lo scorrimento dello stilo tra i solchi dei vinili, ottenendo così un suono caldo e avvolgente, senza rumori e distorsioni. Grazie alla connessione Bluetooth, puoi abbinare e ascoltare tramite gli altoparlanti del giradischi la musica dei tuoi dispositivi preferiti, come iPhone, smartphone Android, tablet, PC e lettori MP3. La cartuccia con stilo Audio Technica e punta di diamante, è progettata per produrre un suono ricco e nitido. Scorre tra i solchi dei dischi in modo preciso e accurato, offrendoti un ascolto perfetto. Il vincitore del premio è l'Audio Technica AT60X. Prova l'audio ad alta fedeltà del tuo vinile e converti i tuoi dischi in file digitali. Funzionamento completamente automatico del giradischi con trasmissione a cinghia a due velocità, 331 terzi, 45 RPM. Monitoraggio migliorato e risonanza ridotta per un suono più fluido. Cartuccia Fono a doppio magnete integrale con stilo diamantato sostituibile. L'adattatore CA gestisce la conversione AC-DC all'esterno del telaio, riducendo il rumore nella catena del segnale. Preamplificatore Fono commutabile incorporato per uscita a livello di linea o di Fono. Converti i tuoi dischi in vinile in file audio digitali scaricando e utilizzando il software gratuito di registrazione Audacity compatibile con Mac e PC. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.